Il racconto delle pietre, il racconto della città attraverso le epigrafi. Percorrendo per circa 150 metri la via Luigi Sturzo dal municipio, si arriva ad un epigrafe dove sta scritto Nicolò Longobardi, nato a Caltagirone e morto a Pechino. Ma chi era Nicolò Longobardi? Siamo qui con il dottore Francesco Failla, direttore della biblioteca di Ocesana e uno studioso dell'opera di Nicolò Longobardi. Chi era, lo chiediamo a lei, Nicolò Longobardi? Intanto grazie per questo invito. A questa domanda rispose con grande entusiasmo un nostro concittadino di venerata memoria, a Don Francesco Sinatra. Due grandi amori ebbe Don Francesco Sinatra, Luigi Sturzo e Nicolò Longobardo. Quelle epigrafe che ritroviamo sulla facciata della casa in via Luigi Sturzo, dobbiamo ritenere che non dia il giusto merito a un uomo che ha vissuto per oltre 50 anni in terra cinese come superiore della missione dei Gesuiti in Cina, nato a Caltagirone, ha studiato nel collegio di Messina, a Palermo, poi a Roma e ha interamente dedicato la sua vita all'azione evangelizzatrice, all'azione pastorale tra i cinesi. Fu un personaggio di liberatura straordinaria, soprattutto da un punto di vista scientifico, oltre che spirituale. Appena diciottenne, per esempio, scrisse un Carmen in esame tri latini dedicati alla Beata Vergine Maria e alla sua concezione sinemacula, riprendendo quelle che erano i decreti del Concilio di Trento di allora, che stabiliva come nel caso si parlasse di peccato originale, bisognava escludere la Vergine Maria. Lui si inserisce, appena diciottenne, in questo dibattito, con un componimento classicheggiante, ma che già dimostra non soltanto una grande perizia tecnica nella composizione del testo, ma anche una profonda conoscenza della mariologia, che tra l'altro ha proprio radici calatine. Si deve ad un gesuita di Mineo l'invenzione della mariologia. Quindi da Messina a Palermo, da Palermo già comincia la sua vocazione verso le terre orientali. Credo che lui avesse chiesto di andare in Indie. Sarà il primo dei giovani indipeti, i petenti India, coloro che da novizi desideravano portare il verbo, portare la propria, come dire, vocazione nelle nuove terre che in qualche modo il 1492 ci aveva consegnato. Lui chiederà di partire per le Indie orientali. All'epoca le Indie orientali erano la Cina e il Giappone. In particolare lui chiese di andare in Giappone. Dopo oltre un anno di viaggio per una serie di vicissitudini e a causa anche della morte di alcuni confratelli, il suo superiore lo invitò ad andare in Cina. In una bellissima lettera scriverà che aveva considerato un dono quello di andare in Cina perché i cinesi tra i popoli pagani erano quelli che più di ogni altro potevano essere meritevoli di accogliere le Sacre Scritture e quindi la religione cattolica. Arrivato in Cina si pone il problema della lingua. Se tradurre o traslitterare, in che cosa consiste questa ricerca poi che fa il nostro Longobardi? Longobardo in qualche modo è anche uno straordinario innovatore da un punto di vista della produzione che realizza durante la missione cinese. Il fatto linguistico per Longobardo non è mai disgiunto dall'aspetto culturale. Secondo lui non bisognava soltanto imparare a leggere, a scrivere in cinese, ma bisognava entrare in corrispondenza ed è per questo che possiamo considerarlo forse tra i più efficaci pilastri su cui quel ponte culturale tra occidente e oriente in qualche modo si sono realizzati. Il problema linguistico era dato dal fatto che la stragrande maggioranza dei concetti cattolici non avevano una corrispondenza in un paese come quello cinese, già a partire dal nome con cui dire in cinese Dio si ponevano una serie di problematiche. Quello che possiamo con certezza dire è che fu lo stesso Matteo Ricci a volerlo come suo primo successore nella missione Gesuiti Cinesi e in una lettera scrive che il buon padre Niccolò Longobardo gli sembra particolarmente adatto soprattutto per la sua capacità, oltre che per lo zelo pastorale, per la sua grande capacità di parlare e scrivere in cinese. Ma poi lui viene in qualche modo accusato di eccesso di zelo e c'è la prima persecuzione cristiana in Cina? Sì, le prime persecuzioni cinesi nei confronti dei cristiani avvengono proprio durante il suo superiorato. Da un certo punto di vista dobbiamo ammettere che la sua azione fu veramente particolarmente efficace, perché evidentemente entrare in relazione, se vogliamo una relazione assolutamente simmetrica con i grandi letterati cinesi, cominciava a far temere che alcuni poteri costituiti, ben consolidati, potessero in qualche modo essere messi in discussione da questi frati che arrivavano dall'altra parte del mondo. L'azione di persecuzione ma anche le molte accuse che egli dove subire in realtà non si trasformarono mai in veri e propri processi perché dimostrò, soprattutto quando fu accusato, dimostrò di essere scevro da ogni colpa. Lui già nel 1600 aveva proposto l'introduzione della messa direttamente in lingua cinese, la possibilità di poter far entrare dentro la compagnia di Gesù gli stessi preti, diciamo così, cinesi e tutto si avvera nel 1949 con l'editto di Pio XII. Sì, l'azione di conversione dei, l'azione pastorale dei gesuiti in Cina aveva dei punti fermi, quello di conquistare soprattutto i letterati. Quindi un letterato convertito rappresentava davvero un punto fermo attraverso il quale la propagazione della fede poteva venire in terra cinese. Longobardo dimostra di poter confrontarsi a tu per tu con questi grandi letterari anche come anticipatore di quel dialogo di scienza tra scienza e fede che oggi è davvero molto caro. Infatti in primo momento i gesuiti vennero accolti avendo come credenziale, come credito di fiducia il fatto che erano dei grandi scienziati. Tutti i gesuiti soprattutto che arrivano in Cina sul finire della dinastia Ming, quindi tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento e parte del Seicento hanno questa caratteristica. Sono degli scienziati, intervengono sulla modifica del calendario, contribuiscono a costruire armi, prevedono eclissi e come nel caso di Longobardo riescono anche in qualche modo a fare una sintesi straordinaria e dei saperi e delle conoscenze scientifiche europee per poterle proporre ai cinesi. Ed è il caso appunto del Trattato sui Terremoti con il quale in qualche modo Longobardo sancisce le sue competenze, le sue capacità agli occhi dell'imperatore, dimostrando come i terremoti possono anche essere in qualche modo previsti grazie ad alcuni segni che si riconoscono nell'aria, nelle acque e nella terra. Immaginate che il Trattato sui terremoti diventa uno dei capisaldi della scienza cinese che riguarda i sismi e i terremoti e verrà ripubblicato per secoli e soltanto qualche anno fa è stato per la prima volta tradotto in italiano in questo libro curato dalla sinologa Silvia Toro con la mia presentazione. Riesce in qualche modo ad anticipare quello che è il ruolo che l'individuo responsabile deve avere verso gli altri individui. Se pensiamo a quella enciclica del Santo Padre che riguarda il creato, ecco Nicola Longobardo si rivolge a tutti coloro che sentono di dover prendersi cura degli altri anche attraverso quel senso di responsabilità che purtroppo ancora oggi non è così diffuso. Come ha fatto questa città a mettere in soffitto una figura così importante? Diciamo che anche quella epigrafe dalla quale si sta partendo è veramente, possiamo dirlo, infelice. Non c'è nemmeno scritto che fu un padre gesuita, una poche battute ma che non danno l'idea della grandezza di Nicola Longobardo. In occasione della presentazione del libro curato da Silvia Toro il nostro Vescovo sollecitato si è reso disponibile a scrivere una nuova epigrafe che spero un giorno possa essere collocata su quella facciata. Un epigrafe nella quale si restituisce non soltanto alla cittadinanza la grandezza di una figura come Longobardo che è tenuto in straordinaria considerazione anche da un punto di vista scientifico in quegli ambienti. Dai calatini, da un lato vorrei dire che siamo talmente pieni di personaggi illustri che magari qualcuno aspetta ancora di essere valorizzato ma certamente Nicola Longobardo oggi rappresenta una grossa opportunità soprattutto per mostrare una Caltagirone che in quel periodo stava al centro di linee direttrici straordinarie che consentivano di mostrarsi veramente non soltanto l'Italia ma al resto del mondo. Oggi abbiamo la fortuna di chi comincia a studiarlo e questo già è un primo punto, è un punto di partenza straordinario. Certo per studiare Longobardo io posso soltanto limitarmi alla ricerca d'archivio bibliotecaria che già ci ha restituito parecchi materiali però sono i sinologi quelli che oggi devono lavorare per restituire a Longobardo quella grandezza legata anche alle sue opere. Per esempio lui fu il primo a scrivere le regole in cinese per poter recitare la preghiera del rosario mariano accanto al trattato sul terremoto e quindi diciamo è una figura che anche prodotto moltissimo era plurilinguista scriveva come abbiamo detto in latino in italiano ma anche in portoghesi in spagnolo in cinese quindi quell'erudizione di un tempo che però in Longobardo è profondamente umana un'erudizione che non è manifestazione di sapere e conoscenza ma è il modo per poter arrivare alle persone a seconda anche delle sensibilità culturali e linguistiche che le persone hanno. Parlavamo delle epigrafe ma è quella veramente la casa dove nacque Nicola Longobardo? Questa è una cosa sulla quale potremmo in qualche modo soffermarci. Intanto è stato davvero difficile poter dare un nome a Nicola Longobardo. Oggi per chi fa ricerca uno dei punti più controversi già è il nome stesso. Dobbiamo immaginare che il nome di Nicola Longobardo che è proprio questo Nicola Longobardo perché lui si firma così nei documenti che abbiamo trovato per esempio presso l'archivio dei Gesuiti a Roma viene più o meno declinato in una ventina di modi diversi. Diventa Nicola, diventa Nicolò, Niccolò, Longobardi, Longobardo. Ritroviamo addirittura un'occorrenza nella biblioteca nazionale francese di tale Nicolas Lombard e quindi ci sono delle opere catalogate presso quella biblioteca col nome Nicolas Lombard. Che quella sia la casa noi siamo in un tempo in quello è un tempo in cui ovviamente il terremoto del 1693 finirà per cancellare moltissime tracce soprattutto le fonti primarie. Fate i documenti ma fatte anche di pietre che molto spesso raccontano moltissimo. Nei documenti che abbiamo riscoperto per la verità perché fu Antonino Ragona a imbattersi in questo documento che era un certificato di censimento dell'epoca si parla di una famiglia benestante non di una famiglia nobile. Poi nel corso degli anni come era un po' abitudine a quel tempo il desiderio di costruirsi come dire avi nobili ha spinto qualche famiglia per esempio a ricostruire ipotetiche immaginarie ascendenze. Quindi non possiamo dire con certezza perché non abbiamo delle carte che ci confermano che quello sia il luogo natale di Nicola Longobardo. La tradizione ce la consegna e finché non avremo un altro luogo dove poterlo ricordare direi che va bene considerare quello come il luogo che in prima battuta ci ricorda Nicola Longobardo. Poi è chiaro che insomma la ricerca ha il fascino straordinario di non fermarsi mai. A volte per casualità, a volte per testardaggine vengono fuori carte e documenti ma le testimonianze che abbiamo primarie su Longobardo sono certamente scritte in cinese. Se vogliamo anche quel quadro che in qualche modo ci consegna l'immagine, la fisionomia di Longobardo non possiamo nemmeno dire che sia esattamente quello anche perché chi commissionò quel quadro, una Longobardi, certamente ci teneva a far entrare nel pantheon e nei suoi avi una figura così importante che certamente non mancò di orientare molti molti giovani anche di Caltagirone oltre che siciliani verso l'ordine della compagnia. Poi ebbe un ruolo anche di straordinaria importanza. Quel quadro in realtà non possiamo essere certi che si tratti di Longobardo. Quello che possiamo dire con certezza è che uno storico gesuita, Aguilera, nel descrivere Nicola Longobardo, lo descrive proprio così come nel quadro è rappresentato. Siamo con Massimo Porta, cultore di Storia Patria. Qual è il legame intrinseco che lega ancora oggi Longobardi alla città di Caltagirone? Indubbiamente, e fate bene a ricordarlo in questa carrellata che si è inaugurata, il legame è quello di un figlio illustre appartenente ad una nobile famiglia che nel 1582 matura la vocazione di entrare nella compagnia di Gesù. A Caltagirone insiste già per volere dei gesuiti l'università e quindi, anche se non abbiamo documenti che lo attestano e gli storici ci direbbero senza le carte non possiamo dimostrarlo, però immaginiamo che prima della continuazione degli studi in quel di Messina, dieci anni dopo rispetto al 1582, il Longobardi o Longobardo, come presumibile che sia, abbia studiato a Caltagirone, presso la sede universitaria, teologia, retorica e filosofia. Questi sono, diciamo, i treppiedi attorno a cui ruota l'approfondimento universitario, all'approccio universitario, gli studi che lo formano e quindi costruiscono l'uomo Longobardi. Quindi una formazione prettamente umanistica che però ha dei risvolti scientifici allorquando in Cina comincia a scrivere di terremoti. Ma i risvolti scientifici pur non avendo i titoli accademici saranno poi cinesi, non hanno radici siciliane perché appunto nel frattempo sappiamo che Nicolò Longobardo nel 1596 da Lisbona si imbarca per la Cina dove Matura decide di svolgere questa importante azione di missione, quindi è un mero missionario della compagnia di Gesù. Il suo ruolo è talmente importante che, come alcuni sanno, poi succederà a Matteo Ricci nella guida di questa missione cinese. Lì, dicevamo appunto, lui matura questa consapevolezza che è di fatto scientifica rispetto agli studi del terremoto. Infatti scrive un trattato che avrà il meritato successo, che addirittura entrerà nella corte dell'imperatore in un mondo rispetto a un popolo che con tutte le classi sociali, quindi non solo con le classi sociali meno abbienti, pensava non solo dei terremoti ma anche dei terremoti con lenti leggendarie, mitiche. Si pensava in Cina che fosse un drago che da sottoterra sollevasse la terra per procurare questi effetti dell'Urish. Il nostro padre Nicolò Longobardi, con il suo studio appunto sui terremoti, di cui mi parlava tanto padre Francesco Sinatra, che poi va anche in Cina nel 1983, introduce un approccio di tipo diverso e quindi l'inizio di un approccio scientifico, di una riflessione scientifica. Appunto Longobardi scrive, tra le tante cose di questo trattato, che il terremoto ha un rapporto fondamentale con il gas, con il fuoco, con il vento. I terremoti possono essere ondulatori e sussultori e i segnali precedenti al terremoto sono naturali. Uno di quelli che mi ha colpito nel leggerlo e nell'averlo raccontato, ripeto, da padre Sinatra, è relativo all'acqua dei pozzi. Quando emerge, scriveva Longobardi, la fanghiglia, quello è uno dei segnali, non l'unico, uno dei tanti che anticipa l'arrivo del terremoto. Quindi questo suo trattato fu rivoluzionario in Cina, perché fu il primo che consentì un approccio diverso, soprattutto per le classi nobiliari, per la corte dell'imperatore, per l'imperatore stesso, per capire invece che era altra la natura su cui studiare e da approfondire. Il rapporto che aveva con i contadini cinesi, riportandosi l'eredità di quello che aveva vissuto nel nostro territorio. Il padre Longobardi ritrovò nella semplicità dei contadini cinesi la semplicità dei contadini siciliani, i quali entrambi, i contadini cinesi e i contadini siciliani, nella loro semplicità amavano essere educati ai racconti, soprattutto ai racconti della tradizione e delle tradizioni e avere esaltati anche i segni per noi liturgici delle feste e per loro liturgici delle tradizioni soprattutto confuciane. Lui quindi lavorò molto e costruì, perché visse molto nelle campagne, amò molto stare nelle campagne cinesi, un rapporto splendido, positivo, di cui scrive anche in alcune lettere che arrivano in Italia e in Sicilia dei contadini cinesi. Tra qualche tempo Papa Francesco andrà in Cina. Un ruolo chiave chiaramente gioca la Cina nella politica internazionale, ma la città di Caltagirone può rivendicare un'eredità importante nei confronti della Cina? So che particolarmente tu e la redazione del Sette e Mezzo hai inteso proporre la conoscenza, alla valorizzazione di padre Niccolò Longobardi, appunto perché stimolati da questo imminente viaggio, che sarà un viaggio importante, di Papa Francesco in Cina. È chiaro che noi siamo un piccolo centro, alcune volte enfaticamente esaltiamo anche troppo il nostro ruolo, il nostro passato. La comunità cinese dovrebbe conoscere meglio e di più, qualcosa è stato fatto, il ruolo di questo siciliano di Caltagirone che succedendo a Matteo Ricci poi lì svolse un'azione di apostolato, di missione cattolica che pur scontando nella prima fase alcune persecuzioni, poi lo mise nelle condizioni addirittura di interloquire, grazie anche al trattato dei terremoti, sui terremoti, ma non solo, con l'imperatore, con le classi dirigenti cinesi. Quindi trovare i canali giusti anche attraverso i nostri consoli, i nostri ambasciatori, la nostra politica, non sarebbe male per ricordare alla classe dirigente cinese che tanti contatti, quindi non solo il mitico Marco Polo, ci sono stati fra il nostro paese e il loro grande paese e fra questi quelli, ripeto, di un siciliano di Caltagirone di cui andare fieri e ricordato in una targa commemorativa nella presunta casa dell'attuale via Luigi Sturzo e che per fortuna non manca nel pantheon degli uomini illustri che sono proposti presso la galleria Luigi Sturzo, tanto chiacchierata per certi aspetti ma che comunque propone attraverso alcuni mosaici importanti, belli e anche il pantheon degli uomini illustri, una carrellata certamente interessante, obbligatoria per chi vuole conoscere la nostra storia, delle nostre più importanti vicende, dei nostri più importanti uomini. Padre Nicolò Longobardi, ambasciatore anche della cultura siciliana e italiana, abbiamo parlato dei contadini in Cina, certamente tra gli uomini più illustri di Caltagirone, poco conosciuto che, come diceva l'uscito per l'ennesima volta il buon padre Sinatra, andrebbe a cominciare da Caltagirone conosciuto e valorizzato di più, a cominciare dalle scuole.